Alla già parlo, facciamo. Prego. Sei già pronto? Eh, non gli dico mai, aspetti... 5 secondi per fellare. Dopo 15 giorni d'astinenza torna al calcio di Serie D con l'impegno che vede i galletti di mister Stefano Civeriati impegnati sul terreno amico del Censimbosia contro Chiavari-Caperana. No, consiglio. Si sente? Non si può chiudere la porta un attimo lì? Aspetta, devo chiudere quella finestra lì. No, oppure dirgli solo... Prego. Dopo 15 giorni d'astinenza l'Asti Calcio ritorna in campo nel torneo di Serie D da capolista in classifica affrontando al Censimbosia l'ostico avversario del Chiavari-Caperana. Abbiamo il piacere di avere con noi uno dei punti di forza della formazione allenata da mister Stefano Civeriati, Tato Manasi e Vareluce l'anno scorso dall'esperienza in terra termale e quest'anno rientrato alla base per un'ottima stagione da protagonista nella mediana bianco-rossa. Benvenuto Tato. Buonasera. Come procede la preparazione all'ostico match che vi vedrà di fronte al team Ligure? Adesso... Pianta. Basta che un po' la rosa si... Si rimpolpi. Si. Piantata. Pianta. 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 Di solo quello che hai detto tu prima. Abbiamo bisogno... Si. Abbiamo bisogno no magari di codiversamento... No, necessitiamo di... Necessitiamo di... Una rosa un po' più grande. Necessitiamo di una rosa un po' più grande. Poi senti tu anni di silenzio e poi dici... Necessitiamo di... Necessitiamo di una rosa un po' più grande. Vai. Se vai male... Tu arrivi in un po'. E poi licenziati in solpito. Ti capito? Perciò c'è sulla coscienza lui. E' attento, comportati bene perché altrimenti... Chi paga è lui. Io te lo dico. Perché è da giugno che mi rompi i baroni con il tuo nome. Quando ci sei? Sei pronto? Aspetta che stanno cantando ancora. Posso più vedere. Aspetta.